Buongiorno a tutti e grazie di essere anche oggi, molti magari hanno partecipato alla lezione precedente, di essere oggi qui per questa seconda parte dell'economia circolare. In questa seconda parte parleremo soprattutto di casi pratici, di esperienze vissute che ci permetteranno un pochettino di mettere a fuoco quelli che sono gli strumenti propri dell'economia circolare. Prima di passare proprio a questa seconda parte, sperando di riuscire a poter andare avanti con… ecco, perfetto. Prima di passare a questa seconda parte, volevo in due slide un po' ricordare quello che ci siamo detti in martedì scorso. Abbiamo parlato di economia circolare, abbiamo detto che l'economia circolare un po' si contrappone al modello oggi predominante di economia lineare. Cos'è l'economia lineare, questo modello di economia lineare? È un modello in cui noi utilizziamo delle risorse, li trasformiamo in un processo produttivo in realtà da ottenere prodotti, usiamo questi prodotti e una volta finito il ciclo di vita di questo prodotto, buttiamo tutto, trasformiamo questi prodotti in rifiuti. In contrapposizione invece, nell'economia circolare, si cerca di sfruttare il tutto, di riutilizzare anche le parti di questo prodotto, di dare una nuova vita al prodotto. Cioè iniziamo sempre il processo dalle risorse che vanno nel processo produttivo per generare nuovi oggetti, nuovi prodotti che verranno consumati, ma a questo punto cerchiamo di riciclare la maggior parte dei materiali, dei componenti di questo prodotto in maniera tale da rimetterli nel ciclo produttivo, in maniera tale da poter generare attraverso essi nuovi prodotti. Ovviamente ci sarà anche una minima parte che necessariamente rappresenterà un rifiuto, però questa auspicabilmente è una parte abbastanza ridotta. Abbiamo detto che per realizzare questo modello di economia circolare, essenzialmente ci sono quattro strumenti, le cosiddette quattro R, il riuso, la riparazione, la rigenerazione e il riciclo. Il riuso abbiamo detto che si esercita essenzialmente in due modi, o allungando la vita in senso temporale del prodotto, pensate al mercato di seconda mano, degli oggetti di seconda mano, finito un utilizzatore, il prodotto serve ancora per un altro utilizzatore. Oppure anziché allungare in senso temporale la vita, intensifichiamo il numero, aumentiamo il numero degli utilizzatori. L'esempio tipico è la cosiddetta economia di contivisione, per esempio il car sharing. Io prendo una macchina, pago per le due o tre ore in cui utilizzo questa macchina e poi la macchina viene utilizzata da un'altra persona che paga a sua volta per le due ore che l'utilizzerà. Cioè intensifichiamo il numero degli utilizzatori di questo oggetto, di questo prodotto. La riparazione ovviamente sapete tutti cos'è, si tratta che quando un prodotto si guasta, anziché buttarlo, lo ripariamo e quindi continuiamo ad utilizzarlo. La rigenerazione è un po' particolare, nel senso che quando finisce il ciclo di vita del prodotto molto probabilmente ci sono dei sottassiemi, dei completi sottassiemi che sono ancora validi, ancora buoni. Allora prendiamo questi sottassiemi, li rimettiamo a nuovo e li utilizziamo per generare nuovi prodotti, i cosiddetti prodotti equivalenti a nuovi, con le stesse caratteristiche dei prodotti nuovi. E infine l'ultimo step è il riciclo, quando effettivamente non c'è più nulla di fare, il prodotto non si può riparare, non si possono prelevare dei sottassiemi, a questo punto l'unica cosa è cercare di recuperare le parti, non i sottassiemi, ma le singole parti, recuperare del materiale, delle materie prime. E in questa maniera cercheremo in maniera diversa di utilizzare ancora le parti di questo prodotto. Ecco, queste sono appunto le quattro R. Come vi dicevo, oggi invece analizzeremo proprio dei casi, degli esempi, dei casi di studio e vedremo proprio in pratica come alcune aziende hanno realizzato dei modelli di economia circolare. Incominciamo con un caso abbastanza interessante, il caso della Finnair. La Finnair, sapete, è una compagnia aerea finlandese e cercheremo di scoprire cosa c'è in comune tra l'Airbus A319 della Finnair e un modello di auto della Mercedes-Benz. Ecco, praticamente dopo 21 anni di servizio, un'Airbus A319 della Finnair è andato in pensione, finito il suo ciclo di vita. Allora, la Finnair, in una struttura specializzata, è riuscito a, da questo aereo, apprendere a recuperare ben il 45 per cento di alcune parti, soprattutto motori, ruote, che potevano essere usate su altri apparecchi. Nella stessa maniera dalla fusoliera sono state recuperate le ali, la coda, hanno cioè realizzato in questa maniera un primo modello di rigenerazione. Cioè hanno preso dall'aereo vecchio, che aveva finito il suo ciclo di vita, dei sottassiemi, le ruote, i motori, le ali, la coda, per utilizzare, per costruire nuovi apparecchi. Ecco, questo è un primo esempio di rigenerazione. Ma sono andate ancora avanti. Dopo aver tolto queste parti, hanno innanzitutto eliminato un po' le sostanze tossiche che c'erano, diciamo, nell'Airbus, utilizzando un centro specializzato. E poi hanno iniziato proprio un processo di riciclo. E cominciando dai cavi, i cavi erano facilmente individuabili, pensate che su questo Airbus c'erano proprio centinaia di chilometri di cavi, quindi di parti che potevano ancora essere utilizzati per la costruzione di altri aerei o anche per altri utilizzi. Una volta tolti i cavi, a questo punto inizia il vero e proprio processo di riciclo. Inizia quello che ci dice lo sminuzzamento del prodotto, cioè il prodotto che viene fatto in piccole parti e attraverso strumenti, a volte tecnologicamente molto avanzate, separatori a flussi d'aria, separatori magnetici per i materiali ferrosi o separatori a correnti indotte per i materiali non ferrosi, come vetro, plastica, legno, carta, attraverso questi, con questi separatori, hanno preso, hanno prelevato delle specifiche parti, dei specifici materiali di quello che era rimasto dell'aereo. Qual è stato il risultato di questa operazione di rigenerazione e poi di riciclo? Ebbene, diciamo, il 49% del veicolo è stato riciclato, è stato il risultato del riciclo, riciclo, cioè sono stati prelevati, sono stati recuperati materie, materie prime, quelle che poi vengono definite materie prime secondarie. Il 38%, il 38,5% è stato riutilizzato per poter essere, ecco, il processo di rigenerazione per poter essere rigenerato, costruendo nuovi oggetti, nuovi prodotti, un 4% è stato impiegato in un progetto di ricerca e il 7% è stato recuperato come energia. Ebbene, se fate la somma, resta che come scarto, come qualcosa che non può essere più utilizzato, era stato soltanto lo 0,8% del veicolo, quindi un risultato eccezionale. L'Airbus aveva finito il suo ciclo di vita dopo 21 anni, ebbene, diciamo, di questo Airbus, soltanto lo 0,8% è stato lo scarto. Per il resto è ancora servito per generare nuovi prodotti. Ha ancora questo, più del 99%, ha avuto una seconda vita. Ma c'eravamo posto la domanda, che avevamo detto che c'era un legame tra la Mercedes-Benz e questo Airbus. Ebbene, il legame è che tra i materiali che sono stati riciclati, bene, questa Airbus ha prodotto 15 tonnellate di alluminio che sono state cedute alla Mercedes-Benz e le ha utilizzate per la carrozzeria di una propria auto. Quindi un utilizzo, diciamo, abbastanza interessante tra due aziende. E, diciamo, la cosa è abbastanza, questo degli Airbus è un caso abbastanza interessante, perché secondo un'intagine, nei prossimi 20 anni saranno demoliti da 12 a 18 mila aerei, e quindi potremmo ricavare da questi aerei tutta una grandissima quantità di alluminio, di vetro, di plastica, di cavi. Quindi vedete che dal punto di vista proprio del bilancio sia energetico sia economico è senz'altro un risultato molto positivo. Passiamo adesso a un altro esempio. Abbiamo, quando abbiamo parlato del riuso, abbiamo detto che una forma diversa, un pochettino diversa del riuso, accanto alla forma tradizionale degli oggetti di seconda mano, è quella della cosiddetta sharing economy, della economia di contivisione. Un modello in cui una persona paga, un consumatore paga non per l'oggetto, ma per il suo uso, e quindi paga, per esempio, in funzione del numero di ore o del numero di giorni in cui usa quel prodotto. E' un modello di business molto interessante, soprattutto perché lo si può considerare come un modello di economia circolare. Perché se più persone utilizzano lo stesso oggetto, evitando i tempi morti, i tempi in cui l'oggetto non è utilizzato, essenzialmente noi rispondiamo alla domanda di servizi senza bisogno di creare nuovi prodotti. Questo è un modello che si sta affermando in questi ultimi tempi, anche perché è un pochettino cambiata un po' la cultura. Pensate per esempio al caso del car sharing, cioè della condivisione delle auto. Il fatto che io prendo una macchina, la utilizzo per due ore, pago per quelle due ore, poi sarà un altro utilizzatore che lo utilizzerà per altre tre ore e così via. Ripeto, è cambiato l'aspetto culturale. Probabilmente voi giovani già siete, sicuramente siete in questa cultura, ma diciamo che la vecchia generazione era un po' legata al concetto della proprietà dell'oggetto. Proprio specificatamente nel caso delle macchine, per esempio i vostri nonni, spesse volte usavano pochissimo la macchina, ma la macchina era l'oggetto da far vedere agli altri e quindi la domenica si faceva il giretto in macchina, non tanto perché bisognava fare chilometri, ma più che altro era una specie di stato simbolo di far vedere che si possedeva la macchina. Ecco, fortunatamente questa cultura è passata e adesso si usa la macchina come servizio, perché c'è bisogno di fare dei chilometri per andare a lavorare. Allora a questo punto può essere conveniente non avere la proprietà della macchina, ma pagare appunto per il suo uso. Ecco, diciamo che questa sharing economy per poter funzionare ha bisogno di aumentare il numero degli utilizzatori, quindi di fare incontrare la domanda con l'offerta. Ecco perché vengono utilizzate delle piattaforme internet che favoriscono proprio quest'incontro tra domanda e offerta. E considerando un altro esempio, abbiamo accennato un pochettino al car sharing, ma adesso consideriamo un altro esempio di economia di condivisione, la cosiddetta house sharing e il caso emblematico è quello dell'Airbnb. L'Airbnb in pratica non è altro che una piattaforma internet in cui io, proprietario di una casa che non utilizza il mio appartamento per un certo periodo di tempo, metto a disposizione, offro questo appartamento ad altre persone che lo utilizzeranno per una settimana, due settimane, tre settimane. Soprattutto legato un po' al turismo. Ecco, allora vedete come in questo sistema abbia molta importanza questo concetto della piattaforma internet, perché c'è bisogno di far conoscere questa offerta di questo appartamento libero disponibile per una o due settimane e farlo conoscere a un livello globale perché questo servizio sarà utilizzato soprattutto per turismo, quindi sarà offerta a persone che non sono della stessa città o addirittura dello stesso paese. Ecco, Airbnb proprio assolve a questa funzione e i suoi punti forti sono proprio questa, la capacità di diffusione di questa piattaforma internet. L'Airbnb si è creata un brand, un nome riconosciuto e di creare soprattutto un rapporto di mediazione tra il cliente e il proprietario dell'appartamento e riuscire a creare un rapporto di fiducia. Immaginate, se io leggessi un avviso sul giornale di qualcuno che mi offre un appartamento a Milano Marittima, non conosco nulla della persona che mi offre questo appartamento. Non so se le caratteristiche di questo appartamento che sono indicate in questo avviso pubblicitario sono veritiere o meno. Ecco, Airbnb invece dà una garanzia perché assicura che quello che è indicato nell'offerta sarà effettivamente quello che il cliente troverà. Ecco quindi che ci sono particolari strumenti che rendono molto trasparente questa offerta, per esempio le foto dell'appartamento, la dettagliata descrizione di tutte le caratteristiche degli accessori dell'appartamento, il profilo del proprietario e anche per esempio le referenze, alcune informazioni che possono ulteriormente far conoscere ciò che poi io troverò. Per esempio un cliente precedente può dire che gli è piaciuto il fatto che l'appartamento era in centro e c'era vicino un supermercato e quindi comincia a conoscere meglio, c'è una notevole trasparenza e si evitano appunto le sorprese quando poi si va proprio a godere diciamo di questa offerta. È chiaro che ci sono in questo processo anche dei punti critici di attenzione in questo modello di economia, di condivisione di questa scena in economy è un modello un po' nuovo per cui certi aspetti normativi ancora non sono chiari, certi aspetti legali non sono chiari e poi un altro elemento, ma questo è tipico di tutti i modelli di business nuovi è che spesse volte sono in contrapposizione, sono distruttivi rispetto a modelli consolidati. In questo caso è chiaro che Airbnb fa una notevole concorrenza agli hotel. Nel caso invece del car sharing che ne abbiamo già parlato, un altro esempio è quello in cui si mette a disposizione non solo la macchina, ma si mette a disposizione l'autista. io sono proprietario di una macchina, allora offro la mia auto e me stesso come autista e quindi fungo da tassi. Attraverso un'app è facile individuare nel posto in cui il cliente si trova quali sono le macchine Uber disponibili che possono offrire questo servizio di accompagnamento e ben definito attraverso quest'app il prezzo della corsa. Anche questo, vedete, è senz'altro un modello di economia circolare in quanto evita che cinque persone utilizzino la propria macchina, invece utilizzeranno appunto questa macchina Uber, però ovviamente anche questo è un modello distruttivo che va in concorrenza con un modello consolidato con precise norme che è quello appunto dei tassi. Addirittura si va a casi forse estremi, ad esempio il caso di BlaBlaCar in cui addirittura non è che io faccia per mestiere quello di mettere a disposizione me come autista e la macchina, la macchina, ma è proprio in questo caso una vera e propria contibizione. Per un mio motivo io devo andare a Bologna, allora offro passaggio a una persona che non conosco con ovviamente la contropartita di una contibisione del costo del viaggio. Ecco quindi che attraverso questa piattaforma BlaBlaCar il viaggio a Bologna anziché essere fatto da due auto viene fatto da una sola auto. Ovviamente è chiaro il vantaggio dal punto di vista energetico in quanto appunto ci sarà una sola macchina che fa il tratto Milano-Bologna anziché due macchine. È ovvio e l'abbiamo già accennato che abbiamo dei vantaggi ma anche degli svantaggi più che degli svantaggi dei punti appunto come dicevo di attenzione. Senz'altro il vantaggio per esempio nel mobility sharing nel car sharing è che si ha un uso intensivo dell'automobile perché lo metta in messa a disposizione di più utilizzatori. Tenete presente che in fase ad alcune statistiche mentre per le auto private il 90% del tempo in media l'auto per il 90% del tempo l'auto resta ferma un'auto privata resta in garage per le auto messe utilizzate nel car sharing invece questo periodo di ferme è soltanto del 40% quindi c'è un uso intensivo. Ci sono senza altro dei vantaggi anche dal punto di vista dell'ambiente perché è chiaro che se io sono un'organizzazione un'azienda che fa del car sharing siccome il pagamento avviene per chilometri è mio interesse mettere in circolazione auto con basso consumo in quanto in questa maniera io guadagno di più oppure per esempio di mettere in circolo delle auto elettriche e così via gli aspetti negativi ne abbiamo già parlato è quello che questi modelli di business entrano in in netta e spesse volte diciamo non non in maniera non non regolare in netta diciamo competizione con business consolidati per esempio il business dell'hotel nel caso di Airbnb o il business dei taxi nel caso del car sharing di Uber è altro aspetto negativo proprio perché il modello è business è il modello nuovo il modello di business è nuovo e che non spesse volte i profitti sfuggono alla tassazione chi offre il proprio appartamento per due tre settimane attraverso Airbnb è difficile poter poterlo individuare e è difficile poter capire se effettivamente sui profitti paga o meno le tasse adesso vogliamo analizzare altri esempi altri esempi anch'essi abbastanza interessanti uno per esempio è quello che ha visto unite le forze di due aziende da una parte la barilla e dall'altra parte una ditta specializzata negli impalli il progetto carta crusca la crusca come sapete è il residuo della macinazione del grano e di altri cereali generalmente la si utilizza come mancime per gli animali si mistia un po' le mancime degli animali ebbene c'è un'altra possibilità di utilizzarla e questa è stata la scoperta della favina e della barilla la crusca può essere mischiata alla cellulosa cellulosa che viene derivata dagli alberi proprio per fare la carta si è calcolato che utilizzando la crusca si può ridurre la quantità di cellulosa necessaria per produrre un dato quantitativo di carta del 20% riduzione di cellulosa significa quindi anche meno alberi che vengono abbattuti per produrre carta quindi anche questo è senz'altro si entra in un concetto di riciclo con grossi vantaggi dal punto di vista energetico e ambientale in questo caso un altro esempio abbastanza interessante il caso della Orange Fiber l'Orange Fiber è una start up è nata nel 2014 a Catania e studiando insieme al Politecnico di Milano ha studiato un processo per cui era possibile ottenere delle fibre tessili dai sottoprodotti cioè dell'industria di trasformazione degli agrumi quindi dalle arance si potevano produrre delle fibre tessili le fibre erano sono di notevole qualità e ben presto diciamo le grandi aziende hanno mostrato un certo interesse incominciato della Ferragamo Salvatore Ferragamo che ha introdotto una linea proprio la Ferragamo Orange Fiber Collection poi è stata la H&M e poi ancora la Marinella la famosa azienda di Napoli che fa cravate fullare conosciute in tutto il mondo quindi anche questo vedete è un processo che permette di riciclare i sottoprodotti di un processo della trasformazione diciamo degli agrumi di diciamo trasformarli in un prodotto a fibra tessile che può essere utilizzata e avere quindi una seconda vita un altro interessante progetto è quello che è partito da Amsterdam e poi è stato utilizzato anche in Grecia quello di utilizzare i rifiuti urbani e soprattutto le plastiche dei rifiuti urbani di poterli riutilizzare per costruire degli arredi urbani per esempio delle panchine o dei tavoli o altri oggetti per esempio dei vasi per piante o per fiori ecco la prima panchina è stata realizzata proprio nel 2017 ad Amsterdam nella città di Amsterdam poi il progetto ha avuto una certa notorietà ed è stato adottato anche in Grecia Salonico e addirittura in Grecia questa azienda questo studio di design che ha inventato diciamo questo processo insieme alla Coca Cola hanno messo in piedi un laboratorio per cercare di migliorare l'efficienza produttiva di questo processo passiamo adesso a un esempio importante italiano parliamo di un consorzio la Corepla che è un consorzio che è specializzato nella raccolta riciclo e recupero degli impallaggi di plastica la volta scorsa nella lezione precedente avevamo detto che il riciclo della plastica è abbastanza difficile la plastica che viene riciclata in assoluto è difficile proprio riciclarla e anche la qualità diciamo della plastica riciclata in genere è inferiore alla qualità della plastica originaria ecco questo consorzio Corepla si è dedicato proprio a questo processo di riciclo della plastica è diffuso in tutta Italia e il processo praticamente vede la raccolta della plastica la selezione delle diverse tipologie di plastica il riciclo diciamo di ognuno di questo tipo di plastica e il riutilizzo di nuovi prodotti nel 2020 tanto per darvi un'idea di questo sistema capillare che la Corepla ha nella raccolta degli impallaggi in plastica sono stati raccolti 1,4 milioni di tonnellate di impallaggi plastici diciamo la parte più critica più difficile più complessa di questo processo è la selezione la selezione perché in realtà non esiste una plastica esistono vari tipi di plastica vari polimeri e ciascuno ha delle proprie caratteristiche chimiche quindi bisogna trovare la maniera di poter rilevare identificare di quale polimero si tratta la cosa è abbastanza semplice diciamo se la plastica è fatta di un solo polimero diventa più complessa invece se è fatta di più polimero gli strumenti che si usano sono strumenti ottici rilevatori e ostici essenzialmente si infiano delle onde elettromagnetiche e poi si analizza l'onda riflessa da questi oggetti in plastica e in funzione dell'ampiezza e della frequenza dell'onda riflessa si può determinare di quale polimero si tratta ripeto la cosa diventa particolarmente complessa se quel pezzo di plastica contiene polimeri diversi due o più polimeri diversi una volta che sono stati selezionati questi polimeri bisogna passare al riciclo e il riciclo può essere o di tipo meccanico o di tipo chimico i risultati ottenuti dalla corepla sono abbastanza interessanti soltanto il 2,7% viene finisce in discarica cioè non è più diventa rifiuto non è più utilizzabile il resto invece può essere riciclato oppure trasformato in energia queste materie plastiche riciclate che rappresentano delle materie prime e secondarie possono avere impieghi in vari settori nel settore edilizio per fare nuovi imballaggi nel settore tessili per esempio i cosiddetti tessuti tecnici delle tute degli indumenti sportivi vengono utilizzate nell'automobile nell'arredamento nel settore dell'agricoltura quindi sono svariati diciamo i settori in cui queste materie prime e secondarie in questo caso la plastica questa plastica riciclata può essere utilizzata voglio terminare riprodursi proponendo una slide che già è stata proiettata nella lezione precedente una slide che ci deve riempire di orgoglio nel senso che nell'ambito dell'economia circolare in Europa stranamente si potrebbe dire perché siamo abituati purtroppo a vederci sempre nella seconda parte o agli ultimi posti della classifica invece nell'economia circolare nel settore dell'economia circolare l'Italia è prima non solo ma è prima già per la terza volta consecutiva per terzo anno consecutivo veniamo dopo primi dopo di noi ci sono la Francia la Germania la Spagna la Polonia e questo deve essere per noi un motivo di orgoglio significa che questo abbiamo capito non soltanto diciamo i vantaggi economici dell'economia circolare di questo modello economia circolare ma anche gli aspetti etici dal punto di vista di salvaguardia dell'ambiente di riduzione degli sprechi di riduzione del consumo di energia ecco vi volevo ringraziare e appunto aspetto le vostre domande per poter continuare ad approfondire questo argomento come sempre siamo noi a ringraziare lei per questo per come tratta e per quello insomma che ci racconta degli esempi veramente molto interessanti attendendo delle domande volevo farne una prima io quando secondo lei è nata l'economia circolare e perché è una domanda ovviamente molto generale o generale generica però così pensavo ci sarà stato una spinta un'attenzione a quello che può essere non so l'ambiente l'economia le persone quando si è cominciato a parlare di economia circolare secondo lei perché sì diciamo adesso non mi chieda l'anno ma diciamo una cosa che praticamente si è cominciato a parlare di economia circolare quando ci si è resi conto che la cosiddetta economia lineare l'economia degli sprechi non poteva andare avanti perché le risorse della natura non erano infinite il petrolio finirà le risorse finiranno quindi bisogna trovare delle nuove forme energetiche e dei nuovi modelli che da un lato appunto consentono il riciclo consentono di ridurre i materiali le materie prime che vengono utilizzate le materie prime stesse finiranno cioè la natura non ha non è una sorgente infinita di risorse di materie ecco di ridurre gli sprechi solo così tenendo conto anche della crescita della domanda del fatto che fra vent'anni ci saranno tre miliardi in più di cittadini quindi di consumatori quindi la domanda non può essere arrestata allora a questo punto ci troviamo in un bivio o appunto blocchiamo la domanda ma in questo caso significa ritornare al medioevo oppure trovare la maniera di soddisfare più persone è una domanda in crescita con meno risorse appunto riducendo gli sprechi e riciclando cioè utilizzando dando nuova vita a oggetti che inizialmente sembravano aver raggiunto il fine vita grazie non sono arrivate domande quindi prima di salutarla volevo chiederle un brevissimo spot su quello che sarà la sua prossima lezione adesso purtroppo non ho sotto mano il calendario e le lezioni sono tante 16 dicembre grazie 16 dicembre e tra l'altro ne anzi arriva c'è una domanda mi dicono allora in attesa che la la scrivano io le chiedo un piccolissimo spot sull'argomento del 16 dicembre un argomento che io e lei ci siamo detti essere veramente molto interessante e che va va approfondito e va conosciuto allora il prossimo argomento parla del piano nazionale di ripresa e resilienza integrato inserito in quello che è il piano europeo il cosiddetto new generation europe essenzialmente parleremo di di un'enorme quantità di fonti che sono stati messi a disposizione dell'Italia e del programma che l'Italia ha presentato ottenendo l'approvazione dell'Unione Europea della Commissione Europea per fare non soltanto la ripresa del post-covid ma soprattutto per realizzare una nuova Italia che possa essere più resiliente più preparata a sopportare a rispondere a crisi economiche sociali e sanitarie come quella che ancora diciamo stiamo stiamo attraversando per cui parleremo essenzialmente del programma europeo next generation europe del programma particolare italiano analizzeremo i vari capitoli di spesa soffermandoci soprattutto per esempio sui giovani sulla scuola che cosa questo piano prevede per la scuola per l'educazione e per i giovani anche perché è un programma fatto soprattutto per i giovani ecco perché si chiama next generation europe nel senso che i risultati si vuole costruire un'Europa e un'Italia che possa essere per i giovani per le nuove generazioni soprattutto ecco purtroppo c'è anche un aspetto negativo nel senso che questi fonti non sono tutti come si dice a fondo perduto ma molta parte è costituita da prestiti prestiti che bisogna restituire e siccome sono prestiti che vanno fino al 2058 il piano è per i giovani ma purtroppo anche il debito forse è per i giovani per le nuove generazioni allora è importante dal punto di vista di noi anziani gestire bene questi fonti perché stiamo giocando sulla vita delle nuove generazioni ed è anche importante che le nuove generazioni capiscono che con questo piano si assumono anche degli impegni perché saranno poi loro a restituire questi prestiti una grande responsabilità quindi la domanda è dato che nel precedente incontro si è parlato di plastica volevamo chiederle se si immagina un futuro prossimo senza plastica no mi immagino un futuro prossimo in cui ci sia plastica biodegradabile in cui ci siano dei sistemi abbastanza con notevole efficienza dal punto di vista del riciclo e quindi del recupero e del riutilizzo della plastica cioè in generale vale per la plastica ma vale anche per altri materiali non ci sono materiali cattivi materiali buoni se si trova la maniera di farne un uso buono piuttosto che un uso cattivo quindi di ridurre quelli che possono essere i danni che in certi materiali possono provocare invece di massimizzare quelli sono i benefici che noi possiamo trarre da questi materiali per cui ripeto io vedo ancora l'utilizzo della plastica che ha dei notevoli vantaggi però un uso buono della plastica cercando di ridurre al massimo o addirittura eliminando quelli che sono gli inconvenienti della plastica che di che 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 vantale Grazie a tutti.